quelle le abbiamo messi apposta per non andare giù e infatti non è andato giù quando ti succedono quelle cose il problema è che quella fuori pesante bravo è pesante quando ti capita così ma non è perché è alta il problema di quella che è alta un casino sotto allora sono più capace con quella adesso ma poi lui non vuole la deve portare su lui l'unica cosa mi devo togliere da qua perché non mi viene addosso te la porta sul Ciri te la porta sul Ciri dai Ciri 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 dai 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 prova dai Ciri prova così non c'era io con le gambe lui perché dai prova te pirlone dai Ciri salta su su sto moto dagliela lui fra dagliela lui dagliela lui te solo perché devi fare filmato Ciri Ciri è un bastardo eh sei caduto sei caduto in tentazione Ciri è dall'altra parte ha già pensato le balle sono a salire oppa è più qui il cambio Ciri dai dai arriva arriva prima la seconda l'ho messa la terza l'ho messo la terza l'ho messo i turisti dai parti da lì a manettone basta no adesso lui va con la tua e tu vai con questa fino a là adesso tu vai con questa fino a là e lui va con la tua che no oh 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 mi sto divertendo guarda una cosa impressionante dai dai prendi quella del Ciri dai almeno fino a là dopo la riprendi lascia andare il ciccio prendi la sua prova dai 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 se gli piace sei ciulato eh è per quello che io voglio questa che non è cavallo pazzo dai 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 che io li vado dietro dai